Ciao ragazzi, le vacanze stanno per finire e sta per iniziare una nuova avventura, una nuova stagione che sarà nuovissima per noi e per voi. Adesso il palazzetto è vuoto, però è iniziata anche la campagna abbonamenti quindi prima si fa l'abbonamento e prima si sceglie il posto. Adesso è vuoto, però è molto più bello pieno. Vi aspettiamo presto e ci vediamo a breve. Ciao a tutti e buone vacanze!